Tiziano Monardi, tantissimi appuntamenti per quanto riguarda la banda Puccini, uno atteso molto dalla città, quello dell'accensione delle luminarie, che si terrà sabato. Sì, accendere le luminarie vuol dire iniziare le feste, quindi è una cosa che fa molto piacere e ci terranno compagnia per tutto il periodo natalizio. E noi, come banda comunale Giacomo Puccini, saremo presenti alla cerimonia dell'accensione, appunto il 26, fuori il terzo italiano, delle luminarie. E noi ci esibiremo con dei brani natalizi per collogarci già nell'atmosfera, nel mood natalizio. Già due nostri membri dell'associazione, il sottoscritto, il maestro Emigliano Manna, saremo presenti anche il giorno precedente, presso la Cittadella della Musica, per la bellissima manifestazione in difesa dei diritti delle donne, contro la violenza delle donne, il giorno 26, appunto, alla Cittadella della Musica. E ci esibiremo e faremo parte di un overo di altri artisti che animeranno questa bellissima celebrazione. Questo venerdì è poi un appuntamento anche domenica. Assolutamente. Questo venerdì, appunto, l'abbiamo detto, ma domenica ci sarà la festa di Santa Cecilia presso la nostra sede di Via Bramante. Siete tutti invitati. Sarà un concerto molto sentito perché si esibiranno in formazioni cameristiche molti docenti di musica classica della nostra associazione. E poi ci sarà l'esibizione della banda comunale Giacomo Cuccini, diretta dal maestro da Via. Ci saranno dei brani vari, dei brani classici, anche una strizzata d'occhio a quelli più moderni. Ma ci sarà anche un momento molto toccante che è quello della, come dire, di un piccolo riferimento, un piccolo omaggio ai ragazzi che sono entrati al conservatorio. Noi facciamo questo, prepariamo molti ragazzi per entrare appunto al conservatorio di musica, in questo caso al Santa Cecilia di Roma. E in pochi anni già una dozzina di ragazzi sono entrati per il nostro grande diletto. E stiamo preparando tutte quante le altre manifestazioni, che saranno tante, cospicue e speriamo anche belle, che appunto prenderanno svolgimento a dicembre. Quindi rimaniamo sintonizzati e alla prossima.